Allora, ragazzi, non so se avete sentito le parole di Tedua a Muschio Selvaggio. Ecco, io generalmente non commento altri podcast. In questo caso voglio farlo perché ho già parlato di Tedua in passato, ho commentato il suo disco in maniera molto aspra e ne voglio parlare perché Tedua genera troppi click rispetto al suo valore effettivo. Parliamo comunque di un artista valido ma che viene un po' sopravvalutato sotto molti, troppi aspetti e che recentemente ha fatto questo mixtape stracolmo di featuring che ancora di più dà valore a un qualcosa che non ha tutto questo valore e tutti i ragazzi che hanno fatto i featuring hanno dimostrato che in questo momento Tedua non è affatto in forma a livello lirico. Allora volevo ascoltare le sue parole. E mi sono segnato della roba da questo podcast in cui dice il rap riflette la società, vero? Quindi dice, ovviamente oggi è una società materialista, capitalista e quindi si trattano queste tematiche perché riflette la società, vero? Dice, facciamo citazioni di strada, rapper per i rapper, ok? Però questo non vuol dire che bisogna per forza adattarsi. Cioè io dico hai ragione Tedua, è vero, il rap rispecchia la società, però il rap prima era contro tendenza, era contro la società. Quindi comunque la società è stata materialista da sempre. Quindi il rap dovrebbe andare contro il materialismo, non farne un'ostentazione estrema. Perché fa questa ostentazione estrema? Perché la gente del rap non gliene frega niente. Non è come prima che tu facevi il rap, lo ascoltavi, te lo pompavi e morivi per il rap. Tu oggi fai il rap perché dici cazzo lo fanno tutti, voglio anch'io ostentare. Ed è una cosa facile anche da fare. Se ti metti con uno studio professionale, uno che ti guida, ha tutti una palla, hai fatto il rap, no? Non era come prima. Quindi di conseguenza, vero, ma questo non giustifica. Cioè è come dire, sì, ammazzo, tanto ammazzano tutti. Eh no, comunque ammazzi una persona. Ora, che poi Tedua è umile come persona, però sulla traccia vuol far troppo. Cioè, parla bene quando dice la storia, è importante studiare, assolutamente sì, bravo Tedua. Ma queste sono comunque le parole di uno che è consapevole di non essere quel geniaccio per cui si fa passare. E sa di non essere colto, e va bene. Anzi, sarai stai a parlare, i Itis di Giulianova ho fatto io, eh. La mia cultura me la sono fatta da solo, quindi assolutamente, quando dico che sono uscito con 64 all'Itis la gente non mi crede. Però, insomma, neanche dobbiamo parlare di Pasolini, cioè, raga, Pasolini negli ambienti teatrali, cioè, è passato. Cioè, nel senso, stiamo parlando di un mito incrollabile, ok? Però, citare Pasolini in quel modo è come quando scarcella, cita De Niro. Cioè, non è che dici, hai citato il classico del cinema, De Niro è comunque una figura, è del mio attore preferito, ma è comunque una figura commerciale per il cinema, ok? Cioè, quindi non è che ci stiamo dicendo, è la stessa cosa a Pasolini. Cioè, la fase in cui sai a memoria i suoi discorsi, in cui credi che Pasolini sia il rivoluzionario, il luminare, e lo è stato. Cioè, quello comunque all'inizio, poi vai oltre, ok? Cioè, Pasolini non è l'arrivo, il traguardo, è il primo passo. Quindi Tedua, quando parla così, dimostra di essere ai primi passi della scoperta del mondo della cultura. Punto. Capito cosa voglio dire? È facile andare in giro e riempirsi la bocca con Pasolini, no? Di che stiamo a parlare? Cioè, ma anche a me piace citare Eduardo. Cioè, certo, Eduardo è comunque un classico, è comunque un must. È il mio attore di teatro preferito, ok? Però, c'è, raga, non è che dici Carmelo Bene, non ne parlo perché lui preferiva la mancanza, la presenza. Però, insomma, io potrei parlare ora di Carmelo Bene, ok? Però comunque starei parlando di un personaggio che, grazie a Dio, era popolare, insomma. Perché oggi con oggi ce ne fossero di Carmelo Bene. Lui era il genio, Eduardo era il genio, non Tedua, ok? Cosa voglio dire? Luis Sal parla di Fiorello. Insomma, ha fatto 17 anni di gavetta. Oggi, invece, è tutto istantaneo. E Luis Sal dice, io sono tre anni che faccio me e già mi sembra una vita. Altro che, Fiorello ha avuto anche sette anni di down in cui non lavorava. Insomma, oggi non te lo puoi permettere. Ed è vero, oggi non c'è più il tempo di elaborazione, come dice Salmo sui dischi. E' così. Oggi tu fai una professione, per dieci anni non arrivi, tu sei un fallito, tu sei una merda. La società ti massacra, ti ostenta, ti sbatte in faccia tutto quello che c'hai. E no, non è così. Cioè, la vittoria è continuare a fare quello che sentivi, dice Luis Sal, ed è vero. Assolutamente vero. Per questo Fiorello è Fiorello. Perché Fiorello ha fatto vent'anni di gavetta. Tedua, quanti anni ha fatto di gavetta? Era nel posto giusto, nel luogo giusto. E aveva quella freschezza che ci vuole. Io sono stato tra i primi a difendere Tedua, quando dicevano non va a tempo, ci vuole aspetta. E' una scelta, il ragazzo ci sta dentro, ed è uno dei pochi contenuti. Poi è arrivato uno come dei pochi che usa i contenuti, poi già uno come Ercomi ti scredita. Un silenzio di Ercomi vale le mille parole di Tedua, che gioca a fare il finto intellettuale. Ma è vero, è inutile che lui dice, la gente dice così, è vero, è vero. Agli occhi del tredicenne sarai un idolo, è inutile che dici la vita senza metafora è brutta. La fase della metafora l'abbiamo vissuta tutti in fase di liceo. Torna al liceo Tedua, io ho fatto un anno di liceo, poi mi hanno espulso. E anche io all'Ivo giocavo a fare le metafore. Avevo 15 anni. Tu Tedua parli come un quindicenne che ha appena scoperto la figa. La figa in questione è la cultura. Capite cosa voglio dire ragazzi? Non è uno screditamento di Tedua, perché sì lo sto screditando, ma Tedua c'ha comunque i milioni in altro po'. Non è un problema. Io faccio questo discorso perché magari si potrebbe pure sentire attaccato personalmente se lo ascolta. Ma io uso lui come esempio perché non si può far passare Tedua come un intellettuale. Questo dice, siamo poeti, non sei un poeta. Poesia è l'esigenza dell'anima, quindi nel momento in cui scrivi un verso sì, stai facendo poesia. Ma questo non vuol dire che tu sia un poeta, ok? Lo sei ma non lo ostentare, cazzo. Lo siamo tutti poeti. Nel momento in cui l'uomo accende la televisione e vede un film, l'essere umano che viene al mondo per ammazzare una razza e nutrirsi, quindi ammazzi l'animale per nutrirti, quello è lo scopo, mangiare, bere, cagare. Nel momento in cui l'uomo accende la televisione e guarda un film e si interroga, in quel momento è poeta. Poesia, poeta è colui che sente, assolutamente. Però non bisogna appunto neanche prendere queste voci e buttarle via, perché dice no, questa è una voce, sono voci. Diecimila persone ti dicono bravo, uno ti dice che sei un finto intellettuale, non lo devi ascoltare. Invece no, lo devi ascoltare perché queste non sono solo voci nell'altra testa, è anche la mia di voce. Se non la vuoi ascoltare, ok, però c'è nel senso, continuerai a fare successo, a fare roba, ma non ti lamentare, perché il grande successo deriva proprio dall'essere modesti, discreti, dell'essere comunque mediocre, ok? Ecco la parola giusta, mediocre. Non hai un grande successo se sei il genio, oggi come oggi, ma se riesci ad arrivare a una massa che è quella dei 13-16 anni, che compongono il 60% dei click negli streaming musicali, allora di conseguenza devi arrivare a loro. Per arrivare a loro devi comunque mantenere un livello di mediocrità. Punto. Quindi di conseguenza tutti questi rapper famosi potrebbero fare di più a livello lirico. Poi il rap è questo, il rap è diretto, il rap è essere capiti da tutti, e infatti ci sta. Ok, ma ricordati che sei un rapper, non sei Freddie Mercury. Cioè come dice noi, ci siamo comunque a di due gazzate sulla base, non siamo musicisti. Eh sì, io ci tengo a sottolineare questa cosa. E io sono uno di quelli che si è battuto per il rap, perché io lo sapevo che questa roba sarebbe arrivata al numero uno e se ci arrivava avrebbe fatto faville. Lo sapevo, ci credevo, avevo 15 anni e mi sarei battuto contro chiunque per fare questa roba. Ho organizzato le jam in posti in cui il rap non esisteva, quindi io il mio l'ho fatto. Ok? Ed oggi mi rendo conto che comunque quelli erano i sogni di un sedicenne. Ed è giusto che a 16 anni hai certi sogni. Però, insomma, andiamo a vedere, c'è pubblico e pubblico. Quando comunque in certi ambienti teatrali ti dicono, no, tu fai il rapper, io personalmente un po' mi vergogno. Ok? Poi ho imparato anche a non vergognarmi di determinate cose che mi appartengono, il mio background, la musica e tutto quanto. Però non mi vergogno per il rap che faccio io. Mi vergogno per il rap come viene inteso a causa di certa gente. Non sto di certo parlando di tedua. Comunque, vediamo che cos'altro c'è. Sì, dice anche la musica da club. Spacca. Appunto, bisogna contestualizzare. Tu che cosa fai? Musica da club? Fai pop? Fai rock? No, fai rap intellettuale? E stai sbagliando, secondo me. Non puoi giocare a fare l'intellettuale se fai il rap. Ok? Un conto se parliamo di... Tu, mi ricordo a Mr. Zampini, che faceva questo disco, La Lunga Via verso Bisanzio. Sicuramente chi conosce questa roba lo sa. Beh, quello era proprio rap, filosofia, dischi storici, pietre migliari. Ok? Ma non è un caso che Bassi Maestro non rappa più. Ma perché che cazzo c'è da dire sulla base Bassi Maestro, che ha 40 anni? Ok? Tipo fa l'esercizio di stile, tipo fa la strofa, tipo fa la canzone in cui si racconta. Ma quanto si è raccontato Bassi Maestro? Cioè, io spero che Bassi Maestro una canzone l'anno, in stile giorni matti, me la fa. Ok? Però io rispetto tantissimo la sua scelta di continuare a vivere dell'hip hop, ma senza la convulsione del disco, se non ha nulla da dire. Perché ha una certa età. Se sapesse cantare, magari canterebbe. Magari pot... Cioè, io... Se devo scrivere un testo, devo scrivere una poesia, appunto. Come faccio a mettere una poesia in 32 barre? Una poesia possono essere quattro versi. Il rap è 16 più 16 più ritornello. Quindi il giorno in cui Tedua mi fa una canzone, in cui comunque me la divide in otto battute, e mi esprime un concetto, e mi fa veramente la poesia, e dico cazzo poeta. Ma non fino a che mi fai le canzoni con tremila parole. Non sei un poeta. Sei un... Un autore... Sei un soneggiatore della musica, ecco. Più che altro. Comunque... Niente, raga. Che dire. Tedua ha questo grosso difetto. Sta sempre in mezzo ai ragazzini. Ha una fan base di bambini. Se vuoi crescere davvero, Tedua, è inutile che stia a casa solo a studiare Nietzsche. Anche. È importante. È bello. Ma se vuoi crescere davvero, vai in ambienti dove c'è gente matura che non ti conosce, dove non sei nessuno, più grande di te. Metti il tuo ego da parte, e taci. Così inizi a crescere. Cioè, troppe parole. Troppe parole, capito? Sei un adolescente che ancora non è cresciuto, e che secondo me di questo passo non crescerà mai. Finché continui ad avere successo. Anche se la tua voglia di fare, la tua voglia di crescere, è chiaro che invece ti porterà ad evolverti, a capire certe cose. In maniera più lenta di chi invece è successo o non ce l'ha, e quindi è costretto a crescere in fretta. Assolutamente sì. Bene. Però, un attimo, smettiamo di dire genio a chi è genio. Tedua. È un grande rapper, un personaggio simpatico, umile di cuore, è tutto quello che ti pare, ma da 1 a 10 non vale più di 7 meno. E tutto quel successo, per me, è immeritato. Cioè, successo ok, te lo auguro, te lo meriti, solo per la freschezza che porti. Ma, cioè, essere praticamente uno degli artisti più seguiti di Skodoro in due settimane, insomma, sei figlio dello streaming, capito? Qual è il discorso?